ah ti puoi dire forse pure tu perché sei doppio giocatore ti puoi dire con il joystick se la macchina se questo angelo sopra acqua arrivo vabbè quando quando si paga poi non ti vedo più c'è una cosa che deve sedere guarda aia dove mi hai colpito quando c'è fatto hanno lasciato qui aspetta c'era uno dicendo che stanno facendo questo guarda sti cosi sembrano darwin tutti quelli la di gambol a michele guard no lo so però guarda ste facce sono tipo come se sono di gambo e poi c'è bananita mi sembra che bananaggio pare dove andiamoci faccio atti eccolo dove guarda bananaggio quando si fa così praticamente lui poi ci sono altri somiglianze questo che potrebbe essere questo che potrebbe essere di gambol alla luce spara la luna vai lo faccio migele volevo fare il chiudì chiudì applicazione aia sono dorato vabbè basta mi sono seccato con questo dorato sono dorato sono dorato e ma poi si paga e vabbè niente ci fa come mi sto cambiando il personaggio sembra dottor buco così guarda michele poi si paga come si paga tor sembra lui si ti sento ti sento il pianoforte no io non sento nemmeno te e nemmeno il pianoforte no il pianoforte non lo stai suonando quindi non lo sento il pianoforte il pianoforte non lo suoni ecco c'è baccato il nome andiamo andiamo non voglio mi giudarla mi sembra una b sono sonnito tipo bucci b stupido b stupido b b mi è sull'idea 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 ma che è tutto questo casino mi è sull'idea mi è sull'idea no non è questo che fa tanto a dire a dire guida io guida io dai no 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 partiamo oh capri fammi guidera me ma ce n'è un altro lì se vai più avanti ce n'è un altro io voglio stare con te, voglio stare con questa parte, sto cadendo sali, 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 eh no, voglio guidare io, no, tu sali, no, voglio guidare io, mister, va bene guida tu, grazie, vai, sali, no, capri, così guidiamo insieme, facciamo gli autoscondri, vai, guarda, tutti insieme siamo, incrocio, ciao, aiuto, 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 sono caduto dentro l'acqua, non posso uscire di più dove sono gli i kisipi quando servono io che non vedo il nome non non ti trovo più nella mappa io sto suonando ma dove ti sento no è pronto per me devo andare a mangiare ci sentiamo dopo dopo domani io sto suonando ma doveesti?